L'ASPE di Ragusa, come ogni anno, ha organizzato in occasione della Settimana del Cuore una campagna di sensibilizzazione per prevenire e informare i cittadini sulle patologie cardiovascolari. Ieri, in occasione di uno degli incontri programmati, abbiamo intervistato il dottor Antonio Nicosia, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia del nuovo ospedale di Ragusa. Questa è una settimana voluta dall'Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri, cui noi apparteniamo e cui abbiamo voluto partecipare. Partecipiamo in genere ogni anno. Serve un po' a divulgare, a mettere i cittadini più vicini alla cardiologia. Cosa serve questa settimana? In buona misura, uno, a comunicare e a dire quali sono gli stili di vita adeguati dei pazienti. Quindi, che oggi mangiare adeguatamente, come noi, in Sicilia dovremmo fare, siamo più vicini a questo tipo di alimentazione adeguata, perché abbiamo la dieta mediterranea vicina. Quindi, lo stile di vita da una parte, quindi mangiare con poco olio, mangiare molte verdure, fare una vita, come dire, anche un'attività fisica quotidiana o comunque settimanale, con una buona cadenza. Sono tutte delle misure che non dovremmo dimenticare. Evitare di fumare. E queste sono, come dire, ricordarlo ogni anno fa sempre bene. Questa è tutta la parte dei fattori di rischio e quindi dei concetti generali. Poi, ovviamente, è l'occasione per ribadire l'importanza della comunicazione, della vicinanza della cardiologia alla cittadinanza. Vicinanza che serve nella fase acuta e quindi nella gestione dei sintomi importanti. Quindi, quando avviene un infarto, quando avviene un dolore al petto, comunicare e fare comprendere ai cittadini che il dolore al petto è importante, non il pungiglione, ma è un dolore serio. È un dolore che, per prima cosa, deve fare pensare al cuore. Perché oggi, attivando il 118 e raggiungendo l'ospedale, nei tempi giusti di infarto, praticamente la probabilità di morire è bassissima, è del 5%. Se non si raggiunge l'ospedale, uno su due muore. Quindi, questo è un messaggio fondamentale. Comprendete, leggete il dolore toracico. Il sistema noi adesso l'abbiamo fatto funzionare, perché abbiamo messo 5 elettrocardiografi nelle ambulanze che funzionano, che sono in contatto diretto con noi in unità coronarica. E quindi, se il sistema viene allertato, il sistema è in condizione di aiutare. Però, ovviamente, bisogna allertarlo e i cittadini devono sapere, devono essere educati ad allertarlo al momento giusto. E dall'altra parte, anche per la nostra vicinanza, anche per le patologie croniche, che oggi occupano gran parte del ricovero del nostro ospedale, perché l'età media aumenta, i pazienti crescono sempre di più, e quindi l'anziano va in conto allo scompenso. Il 60% dei miei ricoveri sono scompensi. Per evitare le classiche ricadute dello scompenso, oggi abbiamo degli strumentini, guardiamo ai pazienti la bilancia, il misuratore di pressione, tutta una serie di cose, che, messe in contatto continuo sempre con noi da casa, consentono di sentire subito gli allarmi necessari per evitare l'ospedalizzazione. All'iniziativa hanno collaborato le associazioni di volontariato Amicuore e AIAD. Al nostro microfono la responsabile AIAD, Gianna Miceli. Quest'anno, per la prima volta, l'Associazione AIAD, l'Associazione Italiana di Assistenza ai Diabetici, insieme a Amicuore, l'associazione che si occupa delle patologie cardiovascolari, abbiamo voluto unire le forze per preparare questa iniziativa che ci vede insieme. Tra l'altro il diabete è estremamente correlato a quelle che sono le patologie cardiologiche, per cui appena questa idea ci è venuta, abbiamo messo insieme le nostre forze. Oggi è una giornata interessante anche perché, tra l'altro, si inserisce in quella che è la settimana delle cardiologie aperte, che in tutta Italia ha fatto molte iniziative per parlare appunto di come sia importante prevenire questa patologia e naturalmente come è possibile prevenire anche il diabete con i corretti stili di vita e con la prevenzione adatta. Grazie.